Eppure, signori miei, in questo nostro benessere evidente e devastante, mi è stato detto che bisogna ricordare i periodi bui. Io, signori miei, tanti anni fa non mancavo pane per mangiare. Io vivo a Milano e sono arrivato giù al nord parecchi anni fa. Ricordo avevo solo Thomas il primo, quattro anni, già si drogava, va? Ricordo facevo un freddo incredibile, minchia di un freddo che faccio io. Ricordo... che mi emoziono sempre, va? Di cose serie, va? Ricordo mancavano quattro giorni a Natale. Quattro giorni a Natale mancano. Quattro giorni a Natale. Quattro giorni a Natale mancano. No, ma però, di cose serie non si può scherzare, non rimanere serie, va? Ci cose serie non si può scherzare. Quattro giorni a Natale. No, no, però, di cose serie non rimanere serie, non si può scherzare ci cose serie. Ricordo... Ricordo... mancavano quattro giorni a Natale. Non si può scherzare, non si può scherzare, non si può scherzare. No, no, non si può scherzare. Se ben ricordo... Mancavano quattro giorni a Natale. Stavo passeggiando per una zona prestigiosa, una zona periferica. Ricordo che eravamo nell'arco dalle 24 ore e mancavano 4 giorni a Natale. Stavo passeggiando tranquillo come un modello di Detroit. Alex Johnson, I never go. Con gli stranieri avevo un buon rapporto. Stavo passeggiando tranquillo, quando all'improvviso? Una sera lo spettacolo è durato 4 ore, è difficile veramente. E' difficile, è una... E' così va. Stavo passeggiando tranquillo come un modello di Detroit. Ricordando a tutti i presenti mancavano 4 giorni a Natale. Tutti si incastravano. Una coreografia mondiale, tutti passeggiavano. E' un momento intenso. Tranquillo. Passeggiavo. Quando all'improvviso mi ritrovo di fronte a un pollaio. Con 4 galline e un tacchino. Le guardo e gli dico, domani ci vediamo. Il giorno dopo per un caso astratto per me mancavano ancora 4 giorni a Natale. Non si sa perché. Mi è arrivato con un sacco di uto, ho preso 4 galline e un tacchino. Sapete che ho fatto per Natale? Ho mangiato carne senza pane. Mi mancava pane. Ma la cosa più strana, sentite a me, io non mi aspettavo queste cose. Perché forse ingenuità infantile, cose. Ma mi aspettavo qualcosa di... Ma la cosa più strana è che il giorno di Natale per me mancavano ancora 4 giorni a Natale. Renda, non siamo tutti uguali. Io non mi aspettavo queste cose.